Del vecchio si parla di aumenti per i costi dei parcheggi nelle aree di risulta di Pescara, però nelle ultime ore probabilmente è stata fatta un po' di confusione. Vogliamo fare chiarezza, è aumentato il costo per parcheggiare nelle aree di risulta, ma come e in quali termini? Questa iniziativa è ricompresa all'interno di quel famoso DUP, il documento unico di programmazione approvato con il bilancio, ed è stata anche presentata in occasione di Corso Vittorio Emanuele, quando abbiamo parlato anche delle aree di risulta si è parlato anche di ciò, e cioè di che? Di una razionalizzazione degli parcheggi sulle aree di risulta. In funzione di cosa? Primo aspetto, nel 2014 ad aprile la passata amministrazione, con un atto improvvido, senza nessuna analisi, riduce le tariffe dell'area di risulta. Quella operazione è costata a Pescara Parcheggi un minore introito di 312 mila euro, in pratica una società che hanno dichiarato di volerla fare fallire. Noi invece su Pescara Parcheggi riteniamo che sia una società che debba essere valorizzata, così come accade in tutte le parti del mondo, non solo di Pescara. E che cosa abbiamo rifatto? Abbiamo sì ripristinato 2,50 euro per l'intera giornata per il parcheggio nell'area sud, quello di 1.250 posti, ma abbiamo anche lasciato ed aumentato il parcheggio per la sosta breve. 563 parcheggi rimangono come sosta breve, cioè un euro la prima ora, un secondo euro eventualmente la seconda ora, e se poi sforano chiaramente si è 3 euro, quindi paghi 2,50 euro per l'intera giornata. Nessun salasso, ma soltanto una politica attenta ai parcheggi che mai era stata fatta prima. Evidentemente la critica ci può essere da parte dell'utenza, è poco accorta e poco significativa a quello che viene da una classe politica bocciata e non capace di razionalizzare e ragionare sulle cose. Se vogliamo dare, come dire, servizi migliori, abbiamo bisogno di risorse. Queste risorse verranno impiegate e impegnate per far sì che sull'area di risulta oggi e su altre aree domani ci possano essere servizi migliori, vigilanza più attenta. E' una società che ha risorse per poter fare anche questa attività.